Siamo in piazza, continuiamo con la festa, soprattutto per continuare a parlare con questa città, una città che dal 27enne, al 6 mezzo del mese di cuore, anche fermata, tutte le settimane in piazza, abbiamo provolto con un'onda nel cuore dell'università, abbiamo ripeto il conficonto, abbiamo detto che passiamo a schifo la guerra a casa, siamo stati in piazza il nuovo 25 aprile, una città in movimento che non si è fermata e non si ferma, e i precari della conoscenza di questo, sono felici di continuare a rientrare la città, con le lotte che partono dalle scuole, dalle mie città, dalle emozioni dei giornali, che partono da tutti quelli che sono spuntati per il loro cervello, verso il 29 maggio a Torino, chi è alto gli universi di Sanmi, stiamo arrivando, dovete temersi, non ci fermeremo, prenderemo i beni, vi pagheremo poco, e dovremo dirvi che non potete fare tutto quello che abbiamo letto sulle nostre tesse, dovremo dirvi che con le terribili stessi, i precari, i ricercatori, i dottorelli, e anche i comitati delle scuole, della buona scuola, hanno cominciato per non fermarsi, 19 maggio a Torino, G8 di University Summit, Torri 10 in stazione centrale, un'altra tappa, un'altra tappa, Mayday, Mayday, No, no, no!